Noi oggi non chiediamo, e questo è il primo messaggio che in qualche maniera vorrei farlo passare. Noi abbiamo capito sostanzialmente quali era l'università del post-covid, ci siamo interrogati e oggi presentiamo quelle che sono delle azioni necessarie per modernizzare, rendere più flessibile e internazionale le nostre università. Otto direttrici che vanno dall'interdisciplinarietà all'internazionalizzazione, dalla modernizzazione delle nostre organizzazioni a delle alleanze per la ricerca. Ma subito però giriamo a pace. Guardiamo a dopo, guardiamo al PNRR come uno strumento e non come un fine. Non siamo qui per sviluppare le azioni del PNRR, ma per insieme ai nostri stakeholder, insieme alla società civile, le imprese, le istituzioni europee e nazionali, disegnare la società dopo il PNRR.